Allora, il mio frutto non è bello e né brutto, è di media bellezza e non è una schifezza, è dolce e succoso, è proprio goloso, non è difficile da tagliare ed è buono da mangiare, è tropicale e alla panza non fa male, che frutto è? È la bionda!